Selezioni di scottore piemontese, carni dall'Australia e dalla Nuova Zelanda, Irlanda, manzetta prussiana, bagu giapponese, migliori vini rossi, pata negra e formacci da leccarsi baffi. Ragazzi, vi piace come programma? È il programma per il 31 Sera qui a Roma al Beef Bazaar, un ristorante al centro di Roma. Se state da queste parti potete trascorrere il Capodanno con noi, siete benvenuti. Con i proprietari abbiamo organizzato un menù davvero divertente perché seguiremo il fuso orario, che vuol dire dove arriva prima la mezzanotte in Oceania e prima assaggeremo le carni dalla Nuova Zelanda e dell'Australia e poi via via una degustazione di tutte le carni del mondo. La serata sarà sicuramente divertente per un semplice motivo. Questo è un locale che ha 230 coperti, abbiamo deciso di mettere, di organizzare solo 100 coperti affinché il servizio sia veloce e sia una serata anti-folla oceanica perché le serate folle oceaniche non ci piacciono, ci sarà anche un po' di musica dal vivo divertente. Due cose ve le devo dire, la prima è il costo 100 euro a persona, ovviamente tutto compreso, se seguite il nostro menù i bambini pagano 30 euro, tra l'altro qui c'è anche un'area bambini, un'area kids divertente così loro giocano e gli adulti si divertono. Prenotate a nome Bracemi ancora per avere i posti migliori e perché poi a chi prenota a nome Bracemi ancora noi volentieri gli regaliamo una copia del nostro libro. Trovate tutte le informazioni sui link, numero di telefono, mail e indirizzo. Noi aspettiamo, un abbraccio che l'abbraccio sia con voi, ciao!